Farò delle valutazioni in base naturalmente a quante sono state le preferenze portate a casa e anche in base un po' alle competenze che ho potuto riscontrare sugli usciti in questi cinque anni. Ci saranno sicuramente ingressi nuovi e anche riconferme. Il sindaco Mozzo tende a non fare anticipazioni, ma il totto giunta a Marostica in verità avrebbe già almeno due caselle occupate. Sembrano ormai certe le riconferme di due componenti di giunta uscenti, Enzo Colosso, assessore esterno al bilancio, e il vice sindaco Valentino Scomazzone, per lui quasi 500 preferenze alle elezioni. Chi mi conosce bene sa quanta è la stima che ho di Valentino e vedrà nei prossimi giorni la lista completa. Non svelo niente, però su Valentino penso non ci sia niente da dire. In realtà ci sarebbe anche un terzo nome già pronto, quello di Ilenia Bianchin, pure lei membro di giunta del primo mandato mozzo, con delega al turismo e alle attività produttive, premiata dagli elettori di Marostica con 448 preferenze. Ma sulla riconferma della Bianchin il sindaco non si sbilancia, non conferma e non smentisce, ma se è vero che il secondo mandato mozzo sarà l'insegna della continuità, con ogni probabilità anche la terza casella del totto giunta è già occupata. Insomma, come accade sempre in questi frangenti, le bocche rimangono cucite, ma dietro le quinte il confronto è più che mai acceso. Insomma, come accade sempre in questo caso. Insomma, come accade sempre in questo caso.